Bene carissimi amici, una buona giornata a tutti voi, ben ritrovati sul mio canale. E quindi cari amici, le mie spie stanno confermando dei grandi 90, quindi attenzione perché ne arriveranno una raffica. Quindi molta attenzione a chi segue le mie spie, molta attenzione a chi segue i miei metodi, perché i miei metodi spia andranno a sbancare alla grande con il 90. E quest'oggi vi presento per chi vorrà, per chi vorrà prendere questo metro, per chi vorrà aggiungerlo, magari a ciò che già sta giocando, la spia 66 di Roma. Un altro grandissimo metodo spia per vincere il 90, ma solo a vincita avvenuta di Ambo Secco. Cosa vuol dire? Che chi mi contatterà su WhatsApp 3487547795 potrà accedere al metodo e avere informazioni su come funziona la modalità vincita avvenuta su questi nuovi metodi spia. Quindi intanto voi il metodo lo avrete, rimarrà sempre vostro nella vostra collezione, lo potrete sempre utilizzare. Sono metodi fortissimi per vincere il 90 e ve l'ho già dimostrato ampiamente, avete toccato con mano le vincite. E quindi siamo pronti a vincere con la spia 66 di Roma, con il calcolo dell'ultima estrazione. Ci porta proprio un 90 bellissimo sulla ruota di Milano, che è una ruota, anche questa, molto forte. Partiremo da venerdì 11 agosto, Massimo 13. Colpi Milano, ruota unica. Gli estratti ve li sto regalando tutti. Ambatasecca 90, anche quarta e quinta posizione. Parliamo, pensate bene, di una sola ruota, di un solo estratto e cinque ambi unica ruota. Quindi si gioca tutto su ruota unica, non si gioca tutte, non si gioca nazionale, non si gioca ambetto, si gioca secco, ambata e ambo. Metodo unico, quindi cinque ambi unica ruota. Metodo spia che rimarrà sempre vostro, lo potete sempre utilizzare. Pensate che questo metodo, degli ultimi 20 casi spia, cioè gli ultimi 20 volte che il 66 è uscito a Roma, ha dato ben tutto su Milano e tutto su ruota unica. 25 ambate, la bellezza di 26 ambi secchi. Questi sono metodi, carri amici, di una potenza inaudita. Io vi invierò il metodo, vi invierò i calcoli, vi invierò la statistica che potrete verificare e toccare con mano. Ma questo solo nella modalità vincita avvenuta, quindi solo per chi mi contatterà via WhatsApp. Quindi siamo pronti, anche con questa spia 66 di Roma, a vincere un grande 90 sulla ruota di Milano. Quindi chi vorrà accedere a queste soluzioni con i miei nuovi metodi spia mi potrà contattare via WhatsApp. Questa è la spia 66 di Roma che è pronta a vincere il 90 di Milano. Quindi le mie spie stanno confermando tanti 90. Questo vuol dire che usciranno tanti 90. Abbiamo in gioco Cagliari, Firenze e Genova. Si aggiunge Milano e sto facendo continuare Napoli. Quindi attenzione cari amici perché arriveranno una sfilza di 90. Per adesso saluto a tutti i Mister Sbancolotto.